Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin e a questo nuovo video acquisti nonché l'ultimo di questo mese perché settimana prossima non ci sarò e quindi ne farò poi uno unico con quelli della settimana prossima più eventualmente quelli di Lucca. Vi ricordo che sarò presente a Lucca il primo novembre quindi se c'è qualcuno di voi che sarà là mi raccomando scrivetemi perché mi fa sempre piacere incontrarvi. Detto questo io vi ricordo molto velocemente di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e di seguirmi anche su tutti gli altri social che trovate qua sotto in descrizione. Detto questo andiamo con una brevissima sigla e iniziamo subito questo nuovo video. E come sempre partiamo dalla casa editrice di cui ho acquistato meno volumi si tratta di Goen con tre volumi acquistati ed abbiamo il numero 13 di Teichi X School storia di Usumaru Furuya autore che mi piace tantissimo lo sapete quindi anche questa serie per me è straconsigliata. Si tratta di una storia ambientata in una scuola ma non la classica storiella diciamo tra compagni di classe no. Qua bisogna ambire al potere bisogna arrivare ad essere rappresentanti di istituto per fare un salto direttamente dalla scuola alla politica e quindi ci sarà una vera e propria guerra all'interno di questo istituto per diventarne responsabile il rappresentante. Il numero 13 è il penultimo numero di questa serie. Poi andiamo avanti e abbiamo invece Lockdown X School i numeri 2 e 3. Il numero 2 ci ha messo veramente una vita ad arrivare ma sono contentissimo perché il primo numero mi era piaciuto abbastanza e quindi sono veramente curioso di sapere come prosegue la storia di questi bambini rinchiusi all'interno di una scuola e dei terroristi che li stanno minacciando con del gas. Che diciamo che ancora non si è capito bene cosa comporta e che effetti può avere sull'essere umano. Poi andiamo avanti e passiamo a J-pop ed abbiamo ovviamente una triade e la triade è composta dai tre numeri 1 di Freeeren che possiamo vedere qua. Abbiamo il volume 1 con la variant esclusiva di J-pop store, abbiamo il numero 1 in edizione variant e abbiamo il numero 1 regular. Allora, Freeeren, il primo numero comunque non mi è dispiaciuto, non so come potrà andare avanti e se riuscirà a mantenere un ottimo livello per tutta la storia. Però comunque è una tematica che non vediamo spesso perché appunto il titolo completo è oltre la fine del viaggio quindi inizia dal viaggio già concluso. E questa è una particolarità che sicuramente mi ha incuriosito molto e voglio vedere come si svilupperà. In più insieme c'era questo bellissimo segnalibro che possiamo vedere qua e poi non lo so per quale motivo io ho trovato anche la spilletta di The Quintessential Quintuplets che sicuramente è una cosa ben accetta anche perché poi la trasformerò in calamita e l'attaccherò al frigorifero ma non me l'aspettavo proprio e non so cosa c'entrasse diciamo con il primo numero di Freeeren. Concludiamo J-pop invece con Big X il numero 1 della Osamushi Collection e diciamo che tutto quello che è della Osamushi Collection più o meno sto cercando di recuperarlo perché è un autore che voglio in libreria, voglio approfondirne la conoscenza il più possibile con tutto quello che esce e che lo riguarda. Poi andiamo avanti e passiamo a Star Comics e Star Comics ovviamente questa settimana non posso che non iniziare da lui ovvero Mushle volumi 1 e 2 più ovviamente la cartolina olografica che possiamo vedere qua che si modifica in base a come la incliniamo. Allora Mushle questi primi due numeri mi sono piaciuti anche in questo caso abbastanza è una storia divertentissima con delle scene che veramente ero lì che leggevo sul serio sta succedendo quindi promosso l'unico dubbio che ho è che ho sentito più di una persona dire che intorno al numero 40 quindi diciamo che non tantissimo sarà intorno al numero 6 forse numero 7 inizia un pochettino si capisce che l'autore non ha quasi più idee non sa come andare avanti e ci sarà un miscuglio di azioni e di faccende che andremo a vedere che non si reggono in piedi e quindi qua come a solito chiedo a voi perché sono sicuro che tra di voi c'è qualcuno che è già alla pari con le scan fatemi sapere invece cosa ne pensate di questa serie a lungo termine e non soltanto dopo questi primi due numeri poi abbiamo un'altra novità assoluta nella settimana e personalmente aspettavo anche più di Mushle ed è Adu il numero 1 lo vediamo qua l'aspettavo tantissimo perché? Perché l'autore ha detto di aver preso spunto da Akira e quindi era una serie che mi incuriosiva veramente tantissimo effettivamente alcuni disegni ci assomigliano abbastanza anche se non sono ovviamente identici li possiamo vedere qua e la storia anche diciamo che qualche richiamo qua e là si vede che ce l'ha infatti sono dei bambini e dei ragazzi anche bambini e ragazzi che vivono rinchiusi dentro un laboratorio dove vengono fatti degli esperimenti su di loro loro hanno come possiamo vedere qua alcune capacità, alcune parti del loro corpo che si modificano e ognuno di loro ha un'abilità diversa uno di loro fuggirà da questo laboratorio e partirà la caccia all'uomo per cercarlo e per recuperarlo andremo poi a scoprire più avanti le motivazioni che hanno spinto a fare questi esperimenti su questi bambini, su questi ragazzi e poi vediamo invece lei che è la nostra protagonista che cercherà di prendersi cura il più possibile del numero del number 8 ovvero il nostro personaggio principale poi proseguiamo e passiamo dalle novità alle conclusioni e abbiamo qua summer time rendering il numero 13 e vediamo quasi dovrebbe venire poi a scoprire tutto quello che è stato il percorso che hanno fatto i nostri personaggi andando avanti indietro nel tempo facendo questi time skip e vediamo un attimino come andrà a finire sono veramente curioso, è una serie che comunque mi è piaciuta tantissimo, è stato annunciato l'anime per il 2022 da Disney Plus e quindi per chi non ha recuperato il manga e sta aspettando l'anime sappiate che comunque non dovrebbe mancare tantissimo la sua uscita concludiamo Star Comics con il continuo del recupero di Sailor Moon e questa settimana sono arrivati il 6 e il 7 li possiamo vedere qua, le copertine sono veramente una cosa meravigliosa ragazzi questa edizione, l'Eternal è un qualcosa di fantastico e quindi anche qua voglio andare avanti, voglio leggerla ho letto nel frattempo Sailor V, non mi è piaciuto tantissimo sono sincero Sailor Moon invece ragazzi che dire, Sailor Moon è Sailor Moon appunto concludiamo con Planet Manga e iniziamo con il volume 21 di Beastars, penultimo numero della serie lo scontro fra Legoshi e Melon, andremo a vedere poi nel successivo numero come andrà a concludersi questa serie che ci ha accompagnato negli ultimi anni poi abbiamo Sing Yesterday For Me, il numero 9 serie che si concluderà al numero 11 con, lo dico sempre, con molti alti e bassi secondo me però vediamo se finalmente i sentimenti dei nostri protagonisti prenderanno una direzione e la manterranno fino alla fine della storia poi abbiamo The Killer Inside, il numero 9 anche questo se non erro si andrà a concludere col numero 11 è una serie veramente molto thriller, psicologica con il nostro protagonista che ha la doppia identità e consigliata anche questa per tutti gli appassionati del genere e poi come ultimo numero delle novità naturalmente dopo che lo stavamo aspettando da settimane, forse mesi Full Metal Alchemist il numero 5 e questo sarà il primo numero che mi metterò a leggere ora che ho letto tutte le novità perché Full Metal Alchemist e Full Metal Alchemist uno lo leggerebbe anche 3-4 volte senza ombra di dubbio passiamo ora ai recuperi anche di casa Planet Manga e abbiamo i numeri 4 e 5 di Fire Force così mi manca soltanto il 3 per avere tutti i volumi usciti fino ad adesso poi abbiamo il numero 2 di Real ragazzi bellissimo, straconsigliato lo stanno ristampando se potete recuperatelo e stesso discorso vale anche per l'altra opera di Inoue ovvero Vagabond Deluxe e qua abbiamo il numero 10 il numero 9 se non cambia nulla dovrebbe essere ristampato la settimana prossima ragazzi vi ho mostrato tutti gli acquisti che ho fatto fatemi sapere cosa ne pensate non ho acquistato Planet of the Fool perché sono ancora dubbioso sulla serie aspetto qualche altra recensione aspetto di sentire degli altri commenti e poi deciderò se acquistarla o meno perché questa qua sicuramente era una delle domande che mi avreste fatto ne sono certo ora ragazzi veramente è tutto vi ringrazio tantissimo per la visione vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se riuscite seguitemi anche su tutti i social qua sotto Instagram, TikTok dove parlerò comunque costantemente delle novità delle letture che faccio e ovviamente qualche video un po' stupido per conoscermi anche un altro verso di me non mancherà io ancora vi ringrazio di cuore e ci sentiamo al prossimo video ciao a tutti e una buona serata ciao a tutti ciao